Dopo anni di discussioni è giunto il momento di trovare proposte concrete. All'idea è sempre più chiara il sindaco di Fano Massimo Seri, che dopo l'incontro avvenuto nei giorni scorsi con gli operatori del settore, ieri si è recato a Roma per un confronto con il vice ministro alle infrastrutture Riccardo Nencini. Seri è tornato con alcuni consigli per risolvere l'emergenza. Innanzitutto, secondo il primo cittadino, bisogna dare attuazione all'accordo di programma, trasferendo così 45.000 metri cubi di materiale nella cassa di colmata di Ancona. Questo però risolverà solo temporaneamente il problema, sia per il dragaggio 2015, sia per il trasferimento dei fanghi stoccati. Ma non sarebbe comunque sufficiente, necessario infatti è un intervento strutturale. Secondo me, e qui veramente ci vuole l'impegno di chi rappresenta questo territorio e chi rappresenta la nostra regione, alcune modifiche alla legge regionale che consentono che allarghino un po' le maglie, come avviene in Toscana, in Abruzzo, in Veneto, in Emilia Romagna. Non riusciamo a capire perché certe situazioni le dobbiamo vivere soltanto noi come Regione Marche. Ecco, a quel punto faremo una proposta anche di modifica di legge regionale e poi vedremo chi si assumerà la responsabilità di accogliere o meno. E ovviamente il nostro modo di fare non lo faremo da solo, lo faremo con il supporto, l'apporto e la collaborazione degli operatori del nostro porto, tenendo conto che il porto di Fano rispetto agli altri porti regionali delle Marche e non solo, è l'unico che all'interno contiene tutti i settori del mondo della marineria, e cioè la pesca, tutto il tema del turismo, quindi di porto turistico. Caratteristiche queste che secondo Seri distinguono il porto di Fano dagli altri marchigiani. E un'altra iniziativa che verrà intrapresa sarà un'ulteriore analisi dei fanghi per capirne il livello di inquinamento. Ma oltre a questo tema, stamattina ha voluto anche rispondere al botte risposta politico tra l'assessore ai servizi educativi Mascarin e il consigliere regionale Foschi sul biegno dell'Istituto Agrario a Fano, ribadendo che il sindaco da solo non può decidere il distaccamento della scuola. Dopo il primo ostacolo politico, già superato con il Comune di Pesaro, ora queste scelte devono essere condivise con più soggetti, come con la provincia e le istituzioni scolastiche interessate. Per martedì prossimo, poi, è previsto un sopralluogo nel locale del Codma di Rosciano, insieme alla Regione e alla Preside del Cecchi, per decidere insieme gli eventuali interventi da eseguire. Una volta che tutti questi passaggi saranno completati, si procederà al piano di dimensionamento scolastico 2016-2017.